Ultimamente nei comics americani va di moda lo scontro fra donne. E noi apprezziamo, no? Ne parliamo dopo la sigla. Salve a tutti appassionati di fumetti. Era un po' di tempo che non facevo la mia entrata trionfale, quindi oggi concedetemelo. Oggi ritorniamo a parlare di Wonder Woman, quindi ci reimmergiamo nell'universo DC perché è uscito il 29 aprile il fumetto numero 11, lo spillato numero 11, che vi ricordo esce sia in edicola che in fumetteria. Sono una cinquantina di pagine a colori, all'interno ci sono due storie di circa 20 pagine ciascuna. Quindi al prezzo di 5 euro. Naturalmente parliamo del DC Universe stampato in Italia per la Panini Comics. In questo numero abbiamo due storie scritte da Steve Orlando e disegnate da Jesus Merino. Le storie si intitolano I Quattro Cavalieri parte 1 e I Quattro Cavalieri parte 2. Vi faccio vedere la copertina del numero che poi corrisponde al 755 della serie regolare di Wonder Woman. E vi faccio vedere anche la seconda copertina. Quindi questa è la prima, bellissima, e la seconda copertina del numero 756. Appunto, dove c'è la seconda storia. Allora ragazzi, vi ho raccontato l'altra volta di Wonder Woman che ha deciso di emanciparsi dagli dèi, di iniziare una nuova vita trasferendosi a Boston, dove lì conosce una sua amica che fa parte dell'FBI, insomma che la tiene un po' sotto controllo. Riuscita a farsi accettare dalla nuova città con le sue imprese, non era un'impresa facile, perché come sappiamo gli eroi spesso non sono accettati. Diana Wonder Woman ha lasciato il suo fidanzato storico ed è decisa più che mai a portare avanti il suo ruolo di eroina e di protrettrice, diciamo, della giustizia. Allora, cosa succede? Nel numero 6 della serie, parlo naturalmente della serie che esce in Italia, quindi il numero 6 che è uscito in Italia, abbiamo conosciuto il personaggio di Warmaster, che vedete qui accanto, che è la protagonista principale di questi due numeri, che sono usciti nel numero 11. Warmaster era, diciamo, una ragazzina che Wonder Woman aveva salvato durante un attentato terroristico. I suoi genitori erano due fanatici nazisti e due terroristi. lei sventa Wonder Woman a questa minaccia, salva questa bambina che si chiama Helen Paul, la cresce come una mazzone e alla fine arriva anche a lottare insieme a Wonder Woman in varie avventure, se non che poi Helen Paul conoscerà la verità da parte di Leviathan. le dirà che in realtà lei è una bambina che è stata salvata da Wonder Woman, è stata strappata ai suoi genitori, e soprattutto scopre che i suoi genitori erano dei risalenti alle cosiddette valchirie che in un tempo remoto si sono scontrate con le amazzoni, e quindi Helen Paul decide di cambiare nome, decide di prendere il suo vero nome che è Paula Von Gunther, e decide appunto di venticarsi nei confronti di Diana che le ha tenuto nascosta la verità. Allora ragazzi, questa qua in generale è la trama. Adesso addentriamoci di più analizzando sia la storia scritta da Steve Orlando che i disegni di Jesus Merino. L'autore Steve Orlando scrive due numeri abbastanza interlocutori, una sorta di ampio preambolo a quello che poi sarà lo scontro finale fra Warmaster e Wonder Woman. Riprende naturalmente una vicenda che avevamo visto nel numero 6, qui finalmente viene spletata. Conosciamo, perché si mettono a confronto sia Wonder Woman che Warmaster, in questo lungo scontro ci sarà anche un lungo dialogo, così come è caratteristico, diciamo, sia dei cartoni maddi che dei fumetti che durante uno scontro, una battaglia, trovano anche il tempo di dialogare. Vediamo una Diana che è pentita un po' di aver sottratto la verità a Warmaster, e dall'altra parte invece Paola von Gunder, che ha ripreso il suo nome originario, invece è decisa a farla pagare sia a Wonder Woman che alle Amazzoni, perché non ci dimentichiamo che lei è discendente delle Valkyrie, e molti molti anni prima le Amazzoni hanno appunto ucciso le Valkyrie. Vi faccio vedere anche questa bellissima vignetta in cui Steve Merino, Steve Orlando, scusate, scrive Credi davvero che qualcosa sia vero solo perché qualcuno continua a ripeterlo? Un'intera cultura può essere costruita su una menzogna, se questa è abbastanza forte. Naturalmente Steve Orlando fa riferimento alla storia precedente che abbiamo visto su Wonder Woman, in cui Diana va su un altro pianeta, in cui la popolazione credeva che era quello che in realtà poi era una bugia, e quindi tutta la società era stata fondata su questa bugia. Naturalmente questa frase la potremmo anche rapportare a tantissimi aspetti della nostra società attuale, ma non divaghiamo. Non c'è solamente questa come trama, in questi due numeri vedremo anche Armageddon, Genocidio e Devastazione, che sono i tre Cavaliere dell'Apocalisse arruolati da Warmaster, cercano di coinvolgere, quindi di costituire il quarto cavaliere cercando di reclutare anche Donna Troi, che è un personaggio che già si è visto molti anni fa, nei fumetti DC, perché era conosciuta come Wonder Girl. Lei decide invece di lottare dalla parte di Diana, e quindi diciamo che Wonder Woman in questo momento ha un'alleata in più. Per quanto riguarda invece i disegni, devo dire che comunque Esus Merino ha fatto un ottimo lavoro, però vedete, per esempio, in questa prospettiva di Diana presa di profilo, mi lascia un po' interdetto. Secondo me i rapporti non sono fatti eccessivamente bene. Vedete anche quest'altro viso di Donna Troi, anche qui c'è, secondo me, un'eccessiva lunghezza, distanza, diciamo, fra gli occhi. Però, poi, questo disegnatore ci regala delle tavole bellissime, come queste che possiamo ammirare, in cui c'è questo scontro fra Wonder Woman e Warmaster, bellissimo, dove vediamo tutte queste scene. Quest'altra tavola invece ci fa vedere Donna Troi, invece, che prende per mano Wonder Woman, che in quel momento era rimasta seppellita durante un'esplosione, la tira fuori ed è decisa a combattere insieme a lei dalla parte del giusto. E poi vi faccio di lato, vi faccio vedere anche questa bellissima unione di queste pagine che costituiscono un quadro in cui la nostra Diana si trasforma, diciamo, nei suoi abiti da Wonder Woman, pronta a sperare l'attacco finale che poi vedremo nel prossimo numero. Va bene, ragazzi, io con questo concluso. Se la recensione vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale se siete dei fan di Wonder Woman o dei fumetti in generale. Noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao! Ciao!